Ciao sono Christian Founder del carotool.com siamo i CCI leader e oggi vado a parlare di qualcosa di cui abbiamo già parlato ma sotto un'altra ottica come ottenere un lavoro in entrata a livello CCNA senza avere esperienza perché io questa cosa dell'esperienza veramente è un falso mito che va distrutto va devastato perché non è vero è falso e però continua a sentire no quindi bisogna veramente contrastarlo con forza allora da dove cominciamo cominciamo dal comprendere cosa vuole il mercato perché insomma io sento studenti che mi dicono però guarda che in effetti qualcuno mi ha risposto non ti assumo perché non hai esperienza allora io faccio sempre questo esempio perché se io avessi dato retta a tutti quelli che mi hanno detto nella mia vita cosa fare io sarei ancora in Italia e probabilmente sarei ancora in una fabbrica in Italia io facevo quello quando ero in Italia fattorino facchino lavori sottopagati neanche sottopagati lavori definirli precari e dir poco improponibili e ho lavorato in fabbrica in una fabbrica plastica cioè mamma mia non voglio neanche ricordare questa cosa le guai ne facevo e quando ho deciso di partire ricordo bene il feedback che ricevetti a casa ero molto giovane ho deciso di partire per l'Inghilterra non avevo ancora finito l'università ho detto no io parto il feedback che ho ricevuto è stato il seguente guarda che tu stai andando a fare l'immigrato e finirai in fabbrica in Inghilterra questo è il feedback allora se tu sei una persona che dà importanza al feedback che ricevi in quel caso stai a casa io ricordo ancora quel giorno al tempo mi piaceva molto il calcio ed ero indeciso il mio cervello stava concentrando sul calcio e stavo guardando una partita del Tottenham e avevo appena visto una partita del West Ham perché ero indeciso tra queste due squadre io andavo a Londra dovevo scegliere una squadra di Londra diciamo Arsenal non se ne parla sicuro Chelsea non mi piace tantissimo Millwall insomma un po' troppo casino e c'erano queste due West Ham e Tottenham e stavo guardando una partita del Tottenham e dico un momento io non posso seguire questo ragionamento perché io sono devo decidere che squadra tenere e mi sembra che deciderò per il Tottenham perché mi piace molto come gioca e lo stadio e tutte queste cose qua e mi guardavano e gli ho detto questo è un pazzo questo sta andando in Inghilterra con una laurea che sta per prendere e va là senza sapere la lingua e pensa al Tottenham in realtà io non è che pensavo al Tottenham ma non accettavo il feedback io so, sapevo che era necessario, era tassativo andare in Inghilterra a prendere la lingua inglese trovarsi a Londra in quel preciso momento storico per accedere ai lavori veri e per iniziare una carriera perché mi guardavo intorno anche se agli albori esisteva internet si cominciava a comunicare e guardavo chi già era lì cosa faceva quali erano gli stipendi quanto ci voleva a inserirsi da un lavoro sottopagato a un lavoro pagato discretamente e non avevo dubbi quindi quel feedback ricevuto anche se lo ricevi da persone che insomma hanno l'autorità perché insomma i tuoi genitori hanno l'autorità quindi rappresentano una voce di esperienza rigettato e sono partito chiaramente la decisione di partire per l'Inghilterra in quel preciso momento ti parlo di più di vent'anni fa è il momento in cui la mia vita cambia perché se io non prendo quella decisione non parlo inglese e non inizio una carriera verticale non puoi iniziare una carriera verticale perché se non impari in inglese non hai accesso alle informazioni se non sei a Londra non hai accesso ai lavori migliori non sei nella città cuore adesso non è più neanche Europa ma insomma è ancora il cuore pulsante dell'informatica se consideriamo il continente europeo o comunque l'area geografica europea è ancora il cuore il cuore dall'altra parte dell'oceano è naturalmente New York la Silicon Valley gli Stati Uniti e l'Inghilterra sono i due cuori pulsanti per l'informatica bene il punto è che non è che devi incassare devi assorbire o far finta di non sentire l'opinione altrui in quanto sbagliata una volta ma devi farlo continuamente nel corso della tua vita perché io quando sono arrivato in Inghilterra l'automato conferma di quello che mi veniva detto in casa i primi appuntamenti non riuscivo neanche a parlare inglese andavo mi presentavo negli uffici e c'erano queste signorine venivano lì mi dicevano ma tu che lavoro hai fatto in Italia dicevo io ho lavorato in fabbrica ah allora perché vedo no perché vedo che hai fatto la domanda per una posizione di informatica ma chiaramente se hai lavorato in fabbrica significa che ti posso cercare una posizione per la fabbrica no ma e ti guardano come come dire con compatimento ma come può questo pensare che se ha lavorato in fabbrica in Italia viene qui e parla una lingua diversa può trovare una posizione nell'informatica non funziona così funziona così esattamente così è semplicemente essere capaci di assorbire quella che gli inglesi chiamano rejection rejection può essere vera a multidivello può essere un'opinione le persone hanno opinioni che non capiscono nemmeno da dove arrivano generalmente sono opinioni emozionali io lo continuo a spiegare ma l'opinione si basa non su un fatto ma su un'emozione su un'idea una sensazione ma farò bene o farò male a fare questa cosa devi avere una metrica se non hai una metrica non puoi sapere quello che stai facendo e non sai se la cosa andrà bene o male emozionalmente prendi delle decisioni sostanzialmente quasi sempre spagate allora io questo dovrei fare un video privato solamente per i miei studenti però già che ci sono oggi mi sento particolarmente in forma e quindi lo faccio pubblico per una volta allora emozioni anche se io fare le cose gratis non è che mi piace tantissimo emozioni e decisioni questa è una lezione che vabbè ormai l'ho iniziato emozioni e decisioni sono due cose che non vanno bene insieme allora noi siamo pieni di emozioni le emozioni ci sono delle cose che modificano le emozioni per esempio se uno utilizza alcol se uno assume zucchero se uno assume caffeina queste cose modificano le emozioni lo zucchero lo zucchero cambia tantissimo il livello emozionale di una persona ci sono persone quando parlano che parlano e sanno solo parlare sulla base di un fattore emozionale non hanno idea di cosa sia fare un pensiero privo di emozioni produrre un pensiero privo di emozioni non hanno idea e le decisioni che è ciò che noi facciamo nella vita in ultima istanza la vita è una serie di decisioni che abbiamo preso o se vogliamo essere precisi è la risultante di una serie di decisioni che abbiamo preso questa è la vita e le persone dicono ma no ma la vita è qualcosa di cui noi non abbiamo il controllo poi ci sono quelli che dicono è già scritta e noi stiamo seguendo semplicemente un disegno siamo predestinati queste cose qua ma io non è che posso perdere tempo con queste persone qua io dico la vita la nostra vita è una una e è la risultante di una serie di decisioni che prendiamo questa è la vita cioè se io decido all'improvviso di attraversare i binari e il treno che sta arrivando la mia vita termina po' estremo come esempio però insomma siamo capiti se io decido di non attraversare va avanti ancora un po' non so quanto ma va avanti ancora un po' la vita è la risultante di una serie di decisioni che noi prendiamo e le decisioni le decisioni per essere prese in maniera corretta devono essere prese molto velocemente e devono essere cambiate molto lentamente che è l'opposto di quello che la maggior parte delle persone fa perché il 99 per cento delle persone il 99 per cento cosa fa? prende decisioni molto lentamente e una volta prese continua a cambiare 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 e se tu dici no ma prendere decisioni velocemente ma sei un pazzo no noi abbiamo un tempo limitato per prendere decisioni deve essere limitato deve essere veloce il più veloce possibile dobbiamo essere dobbiamo allenarci a prendere le decisioni più velocemente possibile per esempio io oggi mentre facevo questo video ho deciso di mettere dentro questa informazione che è critica se ne sai fare uso dopo chiaramente e non è che hai detto no adesso torno indietro rifaccio il video no l'ho fatto e via non dovrei farlo gratuitamente una roba del genere ma per una volta eccezione lo facciamo tanto poi sono sempre anche i miei studenti che guardano anche i video quelli che faccio in youtube e comunque quelli che dopo non sono ancora miei studenti poi diventano miei studenti perché se vedi l'accesso a questo tipo di informazione poi alla fine diventi mio studente quando quando tu capisci questo capisci che perché io faccio tutto questo questa premessa perché sono cominciato emozioni e decisioni allora se io credo a quella signorina che mi dice no tu devi stare in fabbrica io decido che ha ragione lei e pertanto sto in fabbrica mentre io a 47 anni sono in prepensionamento in Thailandia come ho fatto ad arrivare a 47 anni in prepensionamento in Thailandia facendo carriera verticale nell'informatica cioè non ascoltando decidendo di non ascoltare l'opinione di quella persona e capendo in quel momento preciso che dovevo semplicemente tenere a bada le mie emozioni e ho fatto tutto così tutto e tutte le cose che continuo a fare anche oggi sono fatte in questa maniera per aprire la banca in Inghilterra sono andato da una banca mi avevo scelto Lloyd's mi piaceva e la prima era mi sembra verso Piccadilly non so non mi ricordo esattamente dove nella zona di Piccadilly e mi dico no guardi non può aprire la banca perché non ha il lavoro e io dicevo ma guardi che quello del lavoro mi ha detto che non posso avere il lavoro se non ho la banca fa no 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 deve avere prima di tutto il lavoro quindi si faccia firmare il contratto e poi dopo le apriamo il conto io torno a quello del lavoro e mi dico no 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 deve avere la banca sennò dove la paghiamo? a me semplicemente guardi che là e lo so però è così deve avere prima la banca così abbiamo un un posto dove pagarla e a quel punto le finiamo il contratto vado alla seconda banca sempre della Lloyds mi fa no no guardi che se non ha il lavoro non non possiamo aprire il conto eh me l'hanno già detto prima eh sì e vede vado alla terza ah no guardi se non ha il lavoro non possiamo aprire il conto in banca e può andare a tutte le filiali di tutte le banche e le diranno la stessa cosa cioè questo non si è limitato a dirmi no questo mi ha detto può andare a tutte le filiali di tutte le altre banche e le diranno la stessa cosa cioè questo ha tirato fuori una visione globale questo sapeva quello che sarebbe successo in tutte le altre filiali tutte le altre banche ma allora io dovevo chiedere a questa dovevo chiedere a questa persona qua o utilizzare il mio potere decisionale e andare ancora a un'altra banca e mi dicono no guardi se non ha il lavoro non le possiamo aprire il conto che conferma esattamente quello che ha detto la persona precedente perché sono andato a un'altra e poi sono andato a un'altra ancora e mi hanno detto no guardi non le possiamo aprire il conto e la un'altra ancora no guardi non le possiamo aprire il conto perché lei non ha il lavoro quando sono arrivato a casa vicino a casa ero abitavo a Ealing ho iniziato la mia avventura a Londra a Ealing sono entrato nella filiale di Ealing e gli ho detto buongiorno vorrei aprire il conto si ha la carta la carta di identità e la patente abbiamo bisogno di un secondo documento certo bene e mi hanno aperto il conto se senti l'annuncio qua in Thailandia fanno delle vendite diciamo non porta a porta ma girano con portano il gelato io ho tre bambini arrivano con la macchina del gelato poi vendono i polli vivi vendono uova di tutto per essere qui è perché io non ho ascoltato quello lì il terzo pensi di aver ascoltato il terzo oggi non sarei qui a sentirmi gli annunci di quelli che passano nel villaggio thailandese dove sono in priorità all'età di 47 anni ma sarei ancora lì a vincere il dilemma tra l'aprire il conto in banca e trovarmi il lavoro e lo stesso discorso viene fatto da quelli che ti dicono per trovare lavoro nell'informatica devi avere esperienza questa è una sciocchezza di dimensioni bibliche cioè l'esperienza significa semplicemente che tu hai già fatto un lavoro per un altro datore di lavoro questa è l'esperienza e il fatto che tu abbia già fatto il lavoro per un altro non significa che tu lo faccia fare non significa che tu lo sappia fare non c'è connessione tra le due cose chi pensa che ci sia connessione è scollegato è confuso disorientato se tu hai fatto quel lavoro lì significa che l'hai già fatto poi che tu lo sapevi fare o meno questo non lo sa nessuno quello che le aziende chiedono sono due cose sono knowledge che è conoscenza che è questo che tu vedi qui in questa lavagna diciamo la lezione 10 settimana 10 lezione 3 del nostro programma 026 questo la parte teorica è knowledge e poi c'è il know how il know how è saper fare le cose è la pratica se tu hai sei mettere le cose in pratica è generalmente perché hai conoscenza perché c'è qualcuno che ha iniziato dalla pratica ed è risalito facendo il reverse engineering della conoscenza ma è una faticaccia e non è è controproducente cioè nel senso ci metti 5 volte il tempo e arrivi frustrato al risultato quando invece se tu fai bene la parte teorica poi fai la parte pratica diventi veramente pericoloso nel senso che diventi una persona che sa fare veramente le cose e può acquisire tantissima nuova conoscenza perché fare l'opposto è molto faticoso e che rallenta il processo incredibilmente quindi teoria e pratica queste sono le due cose non possono essere scollegate sono combinate questo chiede il mercato knowledge teoria know how pratica non l'esperienza knowledge e know how queste due cose se tu hai queste due cose il mercato ti accoglie e fai carriera questo è quello che il mercato chiede guarda che solo questa lezione di oggi che è gratuita vale se sai utilizzare l'informazione che ti sto dando il problema qual è? che le persone come prima cosa quando prendono una decisione prendono una decisione emozionale quindi il primo il primo scoglio dicono e no ma ho capito ma io devo scegliere un corso allora perché devo fare un corso per arrivare al risultato ce ne sono tanti qual è quello che costa meno? perché? perché spendere il denaro emozionalmente è complicato quando una persona spende il denaro per un corso crede che siano soldi persi non soldi investiti mentre qui è un investimento che fai su te stesso e questo è il primo errore che fa la persona la persona va subito a scegliere un corso insomma quelli che conosciamo no? quelli che sono o gratuiti o quasi gratuiti e non funzionano e perdono un sacco di tempo perdono un sacco di tempo trovano delle informazioni e si complicano la vita dicono oh ma questo è così difficile ma così difficile non è difficile è che hai scelto il corso sbagliato perché hai preso una decisione emozionale tutti i nostri studenti o quasi tutti i nostri studenti hanno provato questi corsi gratuiti o semi gratuiti da qualche monetina prima di arrivare da noi e noi chiaramente siamo completamente diversi quindi noi capiamo che ci vuole knowledge e know how e ti forniamo knowledge e know how come? abbiamo creato un corso che parte da zero e per tre settimane le prime tre settimane ti da proprio mindset Mindset significa che ti insegniamo a creare autodisciplina creare un piano rispettare il piano perché il fatto che tu sappia che devi fare il lavoro non significa che tu lo farai noi ti insegniamo a farlo per farlo non devi prendere le decisioni emozionalmente che significa non ho l'ispirazione oggi non ho la motivazione quello mi dicono la motivazione la motivazione è un'emozione la motivazione è come lo zucchero una frequenza sale e scende sale e scende fa picchi ah oggi non ho la motivazione e ai domani non ho la motivazione ah ma se tu sapessi la giornata che ho avuto oggi questa è la motivazione noi non crediamo nella motivazione noi crediamo nella disciplina o meglio nell'autodisciplina che è ancora più difficile perché ci sono delle persone che credono di poter infondere la disciplina ad altre persone a qualunque livello figli, nipoti, di tutto ma non sono autodisciplinate e la prima cosa che una persona autodisciplinata dimostra di saper fare è controllare le proprie emozioni e tu lo vedi quando una persona è capace di controllare le proprie emozioni ha una caratteristica fondamentale è calma completamente calma e uno dice ma questo sei incantato? no è calma non sei incantato è calma e io qui sono in un territorio dove imparo molto per esempio dai monaci che studiano queste cose durante la giornata poi ci sono tante cose che insomma io non posso essere tipicamente d'accordo con quello che mi dice il monaco perché il monaco mi dice no ma non lavori troppo devi, a parte che non è vero che sono in pre-retirement però insomma quando vedi che faccio queste cose ti dice no devi stare più tranquillo io voglio, voglio fare queste cose qua non posso però dal punto di vista spirituale hanno perfettamente ragione perché ti insegnano proprio a stare calmo questa è la cosa principale stare calmo avere una mente calma perché cosa vuol dire avere la mente calma? vuol dire che non lasci spazio alle emozioni nel momento in cui prendi le decisioni e perché ripeto questo perché quando tu devi fare il lavoro se cerchi la motivazione, cerchi un'emozione cerchi una ragione emozionale per fare il lavoro mentre se tu ti crei autodisciplina scatta l'ora x, fai il lavoro scatta l'ora x, fai il lavoro e noi ti insegniamo come costruirti questo tre settimane di mindset in cui ti diamo anche il piano e ti spieghiamo come rispettarlo ti spieghiamo tutto nei dettagli che uno potrebbe dire grazie grazie per l'informazione vado, va di dove? che non hai le informazioni non ce le hai, perdi un sacco di tempo noi diamo quattro settimane sì sì e nei e ragazzi quattro settimane vuol dire che si studia un'ora al giorno, cinque giorni alla settimana quindi cinque ore alla settimana e il programma è diviso in questa maniera cioè io sono qui alla lavagna faccio l'introduzione e l'epilogo e Arpit Pandit che ha quindici anni di esperienza questa sì nell'insegnamento perché ha sempre fatto questo con risultati eccezionali di insegnamento CCNA e CCNA in classe chiaramente la sua parte è in inglese in quattro settimane facciamo il CCNA ok altre cinque settimane facciamo il CCMP e poi venti settimane CCAI teoria e le ultime venti settimane CCAI pratica lab e allora vedi che quello che abbiamo in inglese dicono engineer quello che abbiamo confezionato dal punto di vista tecnico per te è un programma che ti da trenta settimane di knowledge e venti settimane di know how venti settimane di pratica di teoria e venti settimane di pratica e ti insegniamo come costruire una nuova persona capace di andare fuori e prenderti i lavori quali veri quelli che vengono pagati seriamente perché il nostro obiettivo noi lo diciamo sempre ai nostri studenti il nostro obiettivo il tuo obiettivo dovrebbe essere almeno 10 mila dollari al mese e questo deve essere veramente il tuo obiettivo minimo quando sei a CCAI io ho studenti che guadagnano già molto di più di questa cifra quasi il doppio se non il doppio se non di più del doppio in questo corso senza avere il CCAI quindi ragazzi dobbiamo capire una cosa sarà un processo graduale ci vuole il suo tempo però insomma noi il tempo ce lo mettiamo su dall'inizio sono 52 settimane il limite e tu paghi il corso ogni settimana quindi ogni settimana rinnovi la tua decisione se partecipare al corso o meno ogni settimana puoi uscire in ogni momento non ti piace la prima settimana? esci però voglio dire cioè se sbagli sbagli una settimana e esci ma se non sbagli questo è il corso che ti cambia la vita ti spieghiamo tutto proprio da come impostare il tuo cervello in maniera veramente disciplinata diventa una macchina abbandoni le emozioni le emozioni le vedi sempre emozionali non riescono a controllare nulla diventa una tragedia tutto mentre deve esserci solamente calma e controllo autocontrollo autodisciplina calma e se uno è calmo queste cose se le sbrana soprattutto in una società dove ci insegnano che tutto deve essere a soddisfazione e gratificazione immediata istantanea no non esiste non c'è niente di istantaneo c'è solamente il lungo periodo che si raggiunge con la calma essere capace di rigettare le informazioni che viene a ricevere io per fare un altro esempio quando ero in inghilterra c'era una signora che aveva tantissime posizioni nell'informatica io volevo una posizione di entry level cioè volevo un lavoro di entrata senza esperienza ho detto questa signora aveva tantissime posizioni tantissime io le mandavo email ogni giorno a un certo punto questa mi risponde si chiamava Laura un inglese Laura mi risponde seccata via mail dicendo Cristian adesso basta adesso basta non mi puoi mandare tutte queste email se vuoi una risposta da me io te la do chiaramente non si può avere un lavoro senza esperienza quindi io non farò neanche il forward della tua mail verso il cliente perché tu non potrai mai trovare questo tipo di lavoro senza avere esperienza emozione questa persona ha avuto un'emozione perché io probabilmente ho mandato tante email email e una persona che riceve tante email e non è calma può avere come reazione di no ma mi sta facendo perdere un sacco di tempo perché tanto lui non può trovare il lavoro ma io so che posso trovare il lavoro e io di conseguenza posso prendere una decisione credere alla sua versione la sua opinione emozionale o restare della mia convinzione che troverò il lavoro quindi la mia decisione è stata di mandarle altre email subito tant'è che questa mi ha risposto ancora seccata minacciandomi dicendo se non la smetti ti segnalo ma io le mandavano i miei perché io volevo quei lavori se vuoi sapere come andata a finire questa persona naturalmente non mi ha assunto ma non è che poteva assumermi perché lei lavorava praticamente per un'agenzia quindi faceva la intermediaria ed era anche lei vittima di questa falsa credenza che ci vuole esperienza perché probabilmente i suoi clienti gli hanno detto non mi mandare gente senza esperienza per carità che se no ne devo rigettare chissà quanto e quindi lei pensa che ci vuole esperienza e quindi dice a me, trasmette a me questa falsa credenza dicendo senza esperienza non puoi iniziare a lavorare rigettata io ti mando un'altra mail e non mi interessa se mi assumi o meno perché tanto io il lavoro lo trovo e infatti a distanza di giorni o settimane mi hanno assunto senza esperienza poi ragazzi è talmente evidente che se uno ci pensa attentamente nessuno può iniziare con esperienza ma come fa una persona ad iniziare con esperienza? ma a tutti i livelli tu prendi non so, Mike Tyson quando ha iniziato a fare pugilato aveva esperienza Maradona quando giocava a pallone aveva esperienza ragazzi è talmente evidente che fa schifo questa cosa però la gente si convince si auto convince perché sente il feedback in continuazione e quindi diventa un dato di fatto ma non è così e se tu pensi alla mia carriera no? io inizio come operaio facchino, fattorino, operaio in Italia poi dopo lava piatti in Inghilterra poi lavoro in un ufficio divento ingegnere informatico e poi inizio a scalare in questa maniera project manager technical project manager fino ad arrivare a sales engineer e concludo la mia carriera come network manager e poi a 47 anni sono ora in pre-retirement pre-pensionamento in Thailandia tu dimmi una di queste posizioni che ho fatto io non è che sono poche eh in cui avevo esperienza quando ho fatto l'operaio non avevo esperienza chi ne sapevo io della plastica sapevo neanche come si produceva la plastica quando ho fatto il facchino non avevo esperienza quando ho fatto il fattorino non avevo esperienza quando ho fatto il lavapiatti non avevo esperienza oggi io scherzo qua in casa con la mia famiglia e ogni tanto non dovrei ma ogni tanto mi metto a lavare due piatti lo faccio raramente eh e dico se guarda lo faccio io lo faccio perché come lo faccio io io ho esperienza ma è vero io ho mesi di esperienza nel fare lavapiatti poi lavavo le pentole però ho esperienza è una sciocchezza quando ho fatto l'IT l'ingegnere IT all'inizio non avevo esperienza nel supporto non avevo esperienza quando ho fatto project manager non avevo esperienza ho iniziato con dei progetti senza avere uno straccio di esperienza progetto al secondo progetto avevo esperienza technical project manager non avevo esperienza sales engineer non avevo esperienza network manager non avevo esperienza oggi come pre pensionato non avevo esperienza bellissimo eh bellissimo avrei voluto iniziare a farlo prima bellissimo la cosa più bella pre pensionato voglio dire a 47 anni uno deve anche godersi la vita se no non se la gode mai eh però per arrivare qui l'ho disegnata così l'ho disegnata qua e in questo video guarda che ti sto dando tanto di quello che ho disegnato perché ti dico le due componenti principali sono knowledge e know how però se io te le do così knowledge e know how tu non hai né knowledge né know how knowledge non ne parliamo neanche non c'è perché in quei corsi lì che trovi non ti trovi niente una raffica di informazioni senza senso know how zero e quando vai sul posto di lavoro dimostri di non avere know how e quindi non ti prendono e ti dicono dai non hai esperienza in questo corso 30 settimane knowledge 20 settimane know how alla fine del corso sei trasformato e prendi la decisione rinnovi la decisione di settimana in settimana quindi se ancora non l'hai fatto prendi subito appuntamento con me fatti una chiacchierata con me è gratuita o mi chiedono ma la chiamata è gratuita è gratuita e cosa ti faccio a pagare la telefonata già ti ho dato queste informazioni gratuitamente ti do anche la telefonata gratuitamente ti telefono io non ti preoccupare ti telefono io oppure la facciamo via zoom perché sul 026i abbiamo messo dentro zoom quindi facciamo come preferisci se vuoi fare la chiamata se vuoi fare la videochiamata io te lo dico sono in Thailand vedi che sono passato dalla camicia alla maglietta quando c'è la videochiamata metto la maglietta se no se c'è la chiamata senza maglietta non vuoi 40 gradi il prepensionato si può permettere questo il vantaggio del prepensionato che passi dalla camicia alla maglietta se ti interessa disegnarti un futuro per arrivare al tuo risultato quando avrai la mia età questo è il momento di agire e non importa quante anni hai è il momento di agire ora per disegnarti il tuo futuro e questo devi fare devi andarti a prendere le informazioni dove ci sono cioè da noi e presentarti sul mercato con la consapevolezza che il mercato è lì pronto a ricevere chi ha le informazioni chi ha knowledge e know how e non ascoltare quei ciarlatani che ti dicono che ci vuole esperienza perché sono ciarlatani nessuno esperienza quindi io spero di essere stato chiaro avrei mille esempi da fare che faccio ancora quotidianamente e quando vedo le persone che sorridono le lascio sorridere perché vanno sempre nella direzione sbagliata la direzione emozionale e del fare sempre gli stessi errori la maggioranza delle persone si sbaglia so che è una cosa che dici come? ma allora perché lo fanno tutti? questo è un mistero anche per me ma è così quindi dato che la maggioranza delle persone si sbaglia e che tutti vanno a prendere questi corsi ciofeca che non valgono una mazza e dopo non imparano niente arrivano al colloquio di lavoro se ci arrivano gli dicono no non la possiamo assumere vogliamo esperienza esci da sta spirale negativa vieni da noi costruisciti knowledge e know how teoria e pratica vai fuori sul mercato prendi un lavoro serio e prendi controllo della tua vita prendi appuntamento con me link in descrizione telefonata gratuita ti chiamo io e ci facciamo una chiacchierata è il momento di farlo ciao